Siamo nella valle del Rospac, ovvero il rio Cavallo, a mezzo monte di Folgaria e quello che vedete alle mie spalle è il Casò, che è un edificio storico della comunità e era il ricovero, la baita del Guardiacampi. È stato recentemente ristrutturato e diventerà la sede espositiva di un progetto particolare che si chiama Radure, svolto dall'associazione Valle del Rospac in collaborazione con il Festival Portoveseno e sostenuto dal piano giovane Altipiani Cimbri. L'esposizione vuole raccontare cinque laboratori svolti durante l'estate che hanno cercato di raccontare la valle in diverse modalità espressive, dalla scrittura alla pittura, alla fotografia, alla scultura, fino ad arrivare al paesaggio sonoro e anche a rievocare il mito dell'uomo selvatico, l'uomo selvadec. L'esposizione rimarrà aperta dai primi di novembre fino ai primi di dicembre e sarà la prima volta che questo edificio verrà utilizzato per una funzione pubblica. L'iniziativa è svolta grazie a Portoveseno che ha creato una rete dalla Proloco di Mezzomonte fino al Comune di Folgeria con le altre associazioni e il piano giovane Altipiani Cimbri. Vi invitiamo a visitare questo luogo incredibile anche dal punto di vista paesaggistico. Tutte la cucina deve avere un'altra fornita vi vi Grazie a tutti.